Ci parli dell'architettura sociale e dell'approccio globale che parte dal basso per considerare tutto il contesto in cui si vuole intervenire, un po' come è avvenuto a San Patrignano. Sì, per me è un placere di stare qui. L'italiano non mi prima la lingua, ma capisco un po'. E voglio dire che è un gran onore, un onore di stare qui, perché tutta la vita ho esperato questo momento di lavorare con gente tan speciale, con una idea tan fondamentale, con una visione di una società, una società nuova del siglo XXI. Di un momento dove c'è molta crisi mondiale, c'è molta guerra, conflitto, c'è un problema politico. Io credo che sì, deveamo come una società integrata, the pursuit of the problems we see clearly. Quindi ho dedicato la mia vita a trattare di fare l'architettura sociale, l'activismo sociale, ma è un po' come una specie di entrepreneur, l'empresario sociale, di buscare il dinero, il finanziamento, di creare la idea, la obra, l'architettura, e insertarla politicamente dentro l'immaginazione della gente. Ci parli dell'esperienza delle favelas di Rio de Janeiro e San Paolo. Che cosa ha imparato? Quali sono i problemi che ha incontrato e le difficoltà? Le favelas, per non romantizzare la favela, la favela tiene molti problemi. Problemi di acqua, problemi di sanità, è il problema del crimine, è di droga. La favela, la morfologia della favela, la edificazione delle casze della favela di Barrao, sono uniformi. Tutto il mondo lavora insieme, diciamo, possiamo mettere altro piso, no, altro piso per là, per là. Allora, il prodotto finale è un po' come un urbino. È possibile fare questo tipo di architettura senza le sponsorizzazioni? E quanto contano l'amministrazione locale? Non si deve fare le cose a gran scala senza l'amministrazione locale, no? È importantissimo. E io non posso fare niente senza i leader della comunità. La domanda che devi fare è se l'informalità è un prodotto volontario o un prodotto di una società che impuja l'informalità. Che cosa ti porta qui a San Patrignano? Qui a San Patrignano prima mi porta a apprendere. Devo prima apprendere lo che esiste per poi proponere. Io sono un personaggio di professore della politica, tutti 20 anni. Allora, per me, io lavoro per creare teoria dell'architettura. Per me, la pratica dell'architettura e la teoria sono insieme. Allora, per me, la pratica dell'architettura è un personaggio di professore